Ma il Boeing del Pentagono non è l'unico a mancare all'appello di quel giorno. Questa donna mostra l'unica fotografia che sia stata scattata entro pochi secondi dalla caduta del volo United 93 in un campo della Pensilvania. E questo era l'aereo originale, un Boeing 757, siglato N592UA. Inizialmente si era sparsa la voce che fosse stato abbattuto in volo, e le diverse testimonianze di rottami e di resti umani ritrovati nell'arco di molte miglia sembravano confermarlo. Ma la versione ufficiale ha voluto che l'aereo sia stato fatto schiantare al suolo dagli stessi passeggeri, in un gesto di eroismo. In quel caso però questa enorme massa di acciaio avrebbe dovuto arrivare fino a terra intatta, scomparendo poi per intero in questa buca di pochi metri, che sembra quasi disegnata da un autore di cartoni animati. Non c'è più niente. Non un timone di coda, un pezzo d'ala, un carrello, nulla. Ma in tutti gli incidenti di questo tipo, anche nei peggiori, almeno i motori e il troncone di coda rimangono comunque riconoscibili. Mentre qui non c'è assolutamente nulla che si possa far risalire a un Boeing 767. Solo dei piccolissimi rottami della misura di 20-30 centimetri al massimo, che potrebbero appartenere a qualunque cosa. Ernie Stuhl, il sindaco di Shanksville, è stato uno dei primi ad accorrere sul posto. E non c'è un aeroplane. Non c'è un aeroplane. Niente. Solo piccoli. Non c'erano nulla, come una porta, una finestra o nulla. Non c'erano nulla. Solo piccoli di srapnel, ovunque. Dennis Rodney è il direttore del Pittsburgh Gazette. Purtroppo ci sono pochissime immagini a disposizione. E sono tutte molto simili. I reporter locali, infatti, pur essendo accorsi entro pochi minuti, hanno trovato la zona già interamente recintata dagli uomini dell'FBI, che non li lasciavano avvicinare. Non tutti, però. Uno di loro ha fatto in tempo ad aggirare il blocco e a entrare nella boscaglia dalla parte posteriore. Da distanza non ci sono signori di recchi, solo un colpo di srapnel nella terra. Ma a vicino, nei boschi dietro il crato, sono piccoli monumenti per un'avvento molto grande e horrifiche. Cosa c'è qui? Qui c'è qui? Qui c'è qui. Un 4 inch long piece di insulazione di honeycomb, un po' lungo di aluminum con un screw di philips, con un po' lungo di un po' lungo di un po' lungo di un po' lungo. o un po' lungo di un po' lungo di un po' lungo. Non sai cosa è. Ma siamo praticamente circondati ora da un po' lungo. E c'è una odore molto forte della terra scorciata. È l'unico modo che posso descriverla. Non si tratta di un po' lungo, ma si tratta di un po' lungo. Ma si tratta di un po' lungo. Ma si tratta di un po' lungo. Si tratta di un po' lungo. Si tratta di un po' lungo. In effetti il fungo è il risultato tipico dell'esplosione di una bomba. Queste sono immagini scattate in Afghanistan, subito dopo un bombardamento da parte degli americani. Mentre un aereo che cade è carico di carburante, solleva al cielo una lunga colonna di fumo nero, che continua a bruciare per molte ore. Sembrerebbe quindi che sia stata approntata un'esplosione a terra, piena di ferraglia qualunque, per simulare un impatto al suolo, mentre la mancanza dei veri rottami sembra indicare che l'aereo sia stato davvero colpito in volo. Altre testimonianze paiono confermarlo. We saw the plane basically in an inverted position, going in at a steep angle and knew it was going to hit, and the next thing was, over the horizon, there was a big, huge fireball. That's what it was, I'd say, at least 400 or 500 feet in the air. I gathered all the information I could and, you know, quickly learned that there were a lot of things about the crash of Flight 93 that didn't really add up right away. Vi sono poi dei testimoni che hanno visto un piccolo aereo allontanarsi dal luogo dell'incidente subito dopo la caduta del Boeing. And when I got up here, almost to the stop sign, this small white plane, at the time, that's what I thought it was, went over top of me. It was so smooth and it just glided right over me, just like that. We got to watching it on TV and they kept saying that it was a large plane, like a 757. And I was like, no, what I saw was no jet. No jet, you know, that would have blown me off the road if it went over me, you know, that close. I was standing there watching on TV and the lights flickered in the building. About that time we heard the engines roar and we took off out of the building. As we were coming out from the office out through the building, the ground shook and we heard, you know, a big boom. Looked over and saw the big ball of fire up in the air. We got there, like I said, and probably within 45 seconds or a minute of impact, we were there. We were there before any firemen, any paramedics or anybody. We were on site. When we got there, there was a plane flying up above and he was smart. He flew straight for the sun so you couldn't look at it and see exactly what type of plane or if it was a fighter or what it was. But, you know, we caught a glimpse of it and as he was swinging, he was basically traveling in the same direction as the plane. So, like I said, about 11.30 that night, the FBI came, wanted to talk to me. They kept asking me how big the plane was. I said the plane, you know, it was small, wasn't much bigger than my van that I saw and that it went over top of me. and he says, you don't know what a 757 looks like. And I said, you know, don't be condescending to me. You know, if you don't want to believe me, that's fine. But what I saw, I thought I should report and you ought to know there was something else in the air at the same time this was going on and that's when he did seem to get a little nicer. Told me that it was a white Learjet, someone was taking pictures. I said, before the crash? And he says, well, we got to go. So I was sitting there talking to another guy and I was telling about, you know, he said, did you see the plane crash and whatever, was you there or anything? And I told him the whole story. And I was explaining to him about whenever we were standing in the office and the lights flickered and everything and there was another gentleman sitting in the row in front of me that was retired from the Air Force. And as soon as he heard me say that, he immediately stopped me and he said, tell me this. And I told him and he says, well, I'm retired from the Air Force. He said, that plane was shot down. And I said, why? And he said, because whenever the lights flickered, they zapped the radar frequency on everything before they shoot. And he said, that's why your lights flickered. Your lights didn't flicker from the impact. Your lights flickered because they zapped the radar system before they shot it. United 93, Cleveland, do you still hear the center? United 93, do you still hear Cleveland? United 93, United 9 or 3, do you hear Cleveland? American 1060, do you see anybody northwest of you? Can you see back that far there? All right, we're looking now, sir. Yeah, we do have a... We're looking now. About, uh, probably two o'clock. It appears to be just a dark cloud, like a lot of black. But at this point, it's not important to establish that the Boeing was really hit in the air. If in the meantime, it was ready to be ready for a car, to simulate the accident in that point, it means that the destiny of United 93 was already decided from the beginning. From the beginning. From the beginning. . . Grazie.